E resta sempre alta l'attenzione verso il tema delle barriere architettoniche, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Diciamo che la scorsa settimana abbiamo approvato un provvedimento di legge proprio che va nella direzione di implementare la possibilità di realizzarla e anche misurare chi aveva detto che le doveva fare, quindi nelle amministrazioni pubbliche e poi magari nella realtà non ha potuto portare a termine. Con questa nuova normativa viene introdotto il registro UPEBA, che è il registro elettronico dell'abbattimento delle barriere architettoniche che ogni comune dovrà compilare e che verrà monitorato dalla regione anche nei tempi di attuazione, quindi come garanzia di validazione di un processo che deve essere per forza erogato. Dall'altra parte ci sarà la possibilità di avere dei finanziamenti proprio anche per quelle attività di tipo privato che prevedono l'abbattimento. Quindi è vero che è obbligatorio, ma anche la possibilità di avere dei finanziamenti per poi poterli realizzare e non da ultimo verrà anche tutta una considerazione per tutte quelle attività turistiche, quindi quei bandi che dovranno in qualche modo sostenere il rilancio dell'economia, privilegiare coloro che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il tutto è ovviamente per andare a finalizzare una maggiore implementazione dell'attuazione di queste opere. Il sottoscritto inoltre ha portato un ordine del giorno che è stato provato alla maggioranza, che è stato quello di incentivare poi le risorse dentro questo posizionamento di legge, perché poi senza le risorse non si va da nessuna parte, oltre anche ad aver fatto in modo che all'interno delle commissioni che devono valutare i bandi ci sia la formazione necessaria portata avanti dalle associazioni che vivono questa non completa capacità di mobilità tutti i giorni e che hanno la sensibilità e la capacità di analizzare e valutare se quell'opera di abbattimento architettonico è realmente efficace ed efficiente. E questo è un traguardo importante perché quindi chi giudica ha la capacità di capire se poi quello che verrà fatto è funzionale o meno. Questo è un momento di diverse riaperture, emergono evidentemente delle difficoltà, ci sono anche delle misure a sostegno di alcuni settori. Diciamo che abbiamo fin da subito, ormai da due mesi, che abbiamo cercato come regione Lombardia là dove c'è la possibilità di far ripartire anche attraverso degli investimenti e mettendo a disposizione delle risorse. L'abbiamo fatto prima con i comuni, con un progetto di legge che è diventato legge con oltre 3,3 miliardi distribuiti su due anni per tutte le amministrazioni comunali e in questo momento qua sollecitiamo tutto il mondo del commercio attraverso la disponibilità di 22 milioni di euro per i distretti del commercio che sono quei distretti che sono molto funzionali anche a riprendere la tipologia delle attività locali e come anche sui nostri territori che molto fanno per fare sinergia di rete attraverso tutte le attività commerciali e partecipando a questi bandi avranno a disposizione maggiori finanziamenti per poi fare una serie di iniziative sia collegiali sia mirate che aiutano anche a riportare all'interno delle attività commerciali tutta una serie di clienti e di attività economiche necessarie per il loro sostentamento.